buongiorno e benvenuti nel mio canale video informativo su richiesta ieri ho ricevuto questo commento ciao ernesto ho letto che audacity è diventato pericoloso è vero io per il momento l'ho disinstallato in alternativa potresti consigliarmi un programma con le stesse caratteristiche io risposto non è proprio così magari ci faccio un video prossimamente ed ecco il video audacity al momento è arrivato alla versione 3.0.2 ricordarsi questo numero 3.0.2 quando si è posto questo problema del fatto che audacity sarebbe diventato pericoloso si è posto nel momento in cui verso aprile è stato acquistato da un gruppo con sede in russia credo a mosca che si chiama news group questo che come vedete ha un sacco di software per musicisti oltre a audacity c'è e questa è la pagina della nuova privacy innanzitutto come vedete questa qui è attualmente un documento in draft cioè in una bozza questa questo documento non si applica alle versioni correnti e la corrente versione è la 3.0.2 quindi questa modifica della privacy varrà per le versioni successive alla 3.0.2 non alla 3.0.2 o alle precedenti questo è un dato di fatto quindi magari io lo traduco in italiano per essere più chiaro quindi non si applica nessuna versione di audacity precedente dalla 3.0.2 o anche precedenti non vengono raccolte altre informazioni per nessuno scopo qual è il problema il problema si è posto nel momento in cui sono stati resi noti i dati che vengono raccolti dunque i dati vengono raccolto è la versione del sistema operativo francamente io non ci vedo niente di male se il programma rileva che il mio sistema operativo è uno windows il paese in cui io sto agendo in base all'indirizzo ip quindi non me ne importa neppure che si veda che io sto in italia il nome versione del sistema operativo la e il processore i codici dei messaggi di errore non irreversibili cioè progetti che sono che non sono riusciti ad aprire e rapporti sugli interni sugli arresti anonimi anomali e questo che quello che ha lasciato più perplessi maggiore numero di persone i dati necessari per le forze dell'ordine contenziosi e richieste dalle autorità se presenti questo è quello che che ha fatto un po discutere perché audacity che è un programma con cui si editano dei file audio vorrebbe raccogliere delle informazioni per poi dare alle forze dell'ordine chiaramente non ha senso che le forze dell'ordine richiedano che quel il tipo di file audio che io ho editato che occhio o che ho modificato cioè è proprio una cosa che che ha poco senso la ragione è perché probabilmente è stato inserito a questo questa postilla per proteggersi da eventuali eventuali richieste legali da parte degli utilizzatori e infatti come vedete qua interesse legittimo del gruppo per difendere propri diritti e interessi legali alle forze dell'ordine non credo che interessi quali sono i file audio che io vado a editare altra altra cosa l'app non è destinata a persone di età in periodo di 13 anni questo può sembrare una cosa nuova questo è in effetti una cosa nuova ma questo vale anche per i social network e social network non possono essere usati da persone inferiori all'età di 13 anni e i social network sì che prendono informazioni hanno le informazioni di qualsiasi genere su di noi hanno anche il numero di telefono le forze dell'ordine con i dati dei social network ci possono fare delle indagini approfondite con i dati di audacity che non vedo io che indagini possano fare per il momento se uno ha la versione 302 non ha di questi problemi perché per il momento non c'è nessun la privacy non è stata modificata poi uno può continuare a usare la versione 302 quanto vuole se poi nel momento in cui volesse aggiornare alla 303 dovrà accettare questa privacy che a me non sembra che sia particolarmente onerosa dal punto di vista della raccolta dei dati sono dei dati francamente che mi interessa poco che vengano raccolti e magari dati anche le forze dell'ordine perché io non vedo francamente a che cosa possono servire altro punto che però ha fatto discutere che questi dati vengono raccolti nel nello spazio europeo adesso non trovo questo punto con la possibilità però di condividerli anche con la serie centrale a mosca e ecco qua tutti i suoi dati personali sono archiviati sui nostri server nello spazio economico europeo tuttavia occasionalmente ci viene richiesto di condividere i suoi dati personali con la nostra serie principale in russia e il nostro consulente esterno negli stati uniti questo magari ha lasciato un po' perplesso abbiamo messo in atto tutte le adeguate che includono le claude contrattuali tipo della commissione europea per garantire che ogni volta che i suoi dati personali sono trasferiti al di fuori del sistema appunto economico europeo i paesi che non sono ritenuti adeguati dalla commissione europea i suoi dati personali ricevano un livello adeguato di protezione ai sensi del gdpr che che ha un blog o un sito sa benissimo che cosa si tratta dunque perché è stata modificata la privacy la privacy è stata modificata perché dalla prossima versione alla 303 verranno aggiunte due nuove funzionalità la prima quella appunto del report sugli errori che abbiamo visto che gli servono appunto i dati i codici degli errori degli arresti anonimi anomali scusate e la seconda è appunto che verranno attivati di aggiornamenti automatici e quindi la modifica della privacy è servita soprattutto per questo che però ripeto scatterà nel momento in cui si aggiornerà dalla 302 alla 303 inoltre la questo tipo di privacy non si applicherà alla versione online di audacity audacity può essere infatti usato anche come editor online per esempio con chrome questa è la applicazione la estensione audacity di chrome io l'ho installata anche se al momento è disattivata vedete io posso usare audacity anche come estensione di chrome e quindi se io uso audacity online non questo non inficia la privacy attuale e non viene applicata la privacy che verrà con la 303 se tutto questo qualcuno magari da fastidio o comunque non vuole più usare audacity in futuro probabilmente verrà creato un nuovo un nuovo programma al di fuori del del news group perché come sapete audacity è un programma open source quindi qualsiasi persona può scaricare il codice sorgente tutti 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 i dati di audacity e creare un nuovo un nuovo programma esattamente identica audacity magari però senza questa questa nuova privacy però chi volesse magari usare altri altri programmi per editare gli audio gratuitamente dal computer magari io vi metto anche i link nel post posizionato sotto il player del video io vi posso consigliare per esempio ocean audio questo qua gratuito per windows oppure anche wave show anche questo qui gratuito per windows oppure anche audio for fun anche questo gratuito per windows secondo me io lascio audacity attualmente alla 302 eccola qua aiuto informazioni su audacity 302 io aggiornerò tranquillamente alla 303 perché non mi pare che sia un problema condividere quelle informazioni che ci chiedono se qualcuno non lo vuole fare però può sempre continuare a usare la 302 oppure usare una versione online a cui non viene applicata la nuova privacy secondo me molti articoli che sono usciti su questo argomento sono articoli pubblicati per avere qualche like o qualche link sapete un po per drammatizzare un po la cosa come successe per sea cleaner qualche qualche mese fa in conclusione quando arriverà la 303 se decidete di installarla vi consiglio di andare per esempio su modifica preferenze tra tutte le opzioni probabilmente ci sarà anche quella dell'impostazione della privacy per eventualmente scegliere che cosa condividere e che cosa non condividere questo sicuramente la nuova proprietà ce lo metterà per una questione anche di trasparenza che va bene anche a loro quindi andate su modifica preferenze e controllate se c'è una opzione per la privacy per quello che si può condividere e quello che invece non si vuole condividere secondo me però il problema è stato ingigantito e non si rischia niente sicuramente Odatity non è uno spawar non cattura niente di pericoloso dal nostro computer tanto meno i dati personali o altre cose e questo è tutto alla prossima volta grazie